Hai intenzione di aprire un negozio di ottica? Vuoi avviare una nuova attività imprenditoriale? Se sì, allora fermati un secondo perché ho qualche suggerimento da darti. Aprire un negozio di ottica può essere un'idea molto interessante per chi ha la qualifica di ottico o chiunque voglia aprire questa tipologia di negozio purché abbia nel proprio negozio appunto un dipendente o un collaboratore che abbia questa qualifica. Tieni presente che per essere un ottico deve avere una laurea in ottica e optometria che chiaramente si differenzia da quella inoculistica in quanto l'ottico non può prescrivere dei medicinali. Ma dove aprire un negozio di ottica? Sicuramente mi sento di consigliarti di aprirlo in una zona comunque centrale della città o del paese che andrà a individuare, vicino a una zona comunque pedonale, però considera anche vicino comunque a una zona con dei parcheggi per i tuoi clienti. Quali sono gli addempimenti burocratici che dovrai sostenere per aprire il tuo negozio di ottica? Sicuramente dovrai aprire la partita IVA, poi dovrai chiaramente decidere se aprirla da solo o da sola oppure in società con qualcuno. Dovrai chiaramente poi aprire anche una posizione all'Inps per versare i contributi, dovrai registrare la tua impresa al registro delle imprese e dovrai anche presentare il tuo negozio di ottica, oltre anche ad avere l'idoneità igienico-sanitaria. Prima di aprire un negozio di ottica ti consiglio di redigere un business plan, cioè andare a stimare quali saranno i costi e quale sarà il fatturato dei primi tre anni orientativamente, questo per evitare di avere sorprese. Comunque i costi che dovrai sostenere saranno chiaramente l'affitto del locale, se deciderai appunto di prenderlo in affitto, oppure se dovrai comprare il locale e eventualmente sostenere un finanziamento bancario. Avrai poi tutte le utenze per la gestione del locale e poi chiaramente se sarà necessario dovrai assumere dei dipendenti. Bene, spero che questo video su come aprire un negozio di ottica ti sia stato utile, se hai qualche domanda postala pure nei commenti sarò ben lieto di darti delle risposte, se questo video pensi che possa essere utile a qualche tuo amico o qualche tua amica condividilo pure. In ogni caso se mi vuoi contattare per aprire un negozio di ottica o comunque per avviare una nuova attività imprenditoriale puoi visitare il sito www.studioallievi.com oppure inviare un'e-mail a info-studioallievi.com. Con questo è tutto e io ti do appuntamento alla prossima puntata su come aprire una nuova attività imprenditoriale. Ciao, alla prossima! Grazie!